Non è possibile spiegare perché siamo arrivati soltanto ora a poter proporre un evento come quello a cui state partecipando. I deboli dovevano essere eliminati così che i forti. Nel 1863 lo psicologo Francis Galton sviluppò una teoria che ebbe un forte impatto sul modello psichiarico, l'eugenetica. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 presi treni e barche, presi treni e barche, percorso sulla terra dei giusti, o Pantino, la gente più uvile, città, i miei mercanti, mi svegliavo presto e non dormivo, mi svegliavo presto e non dormivo. Nell'ora in cui la nebbia non era ancora. Non credevo alla prosperità perché talvolta credevo alla chimica, ero buono per la 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 chimica. Grazie.